Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Sempre drammatiche le condizioni in cui vivono i cattolici in Cina. L'ultima novità è giuntere alla provincia dei Leilongjiang. Anche qui come altrove le autorità territoriali hanno strutturato un sistema di ricompense per tutti i delatori, disposti a segnalare reati legati al culto delle comunità cristiane. L'obiettivo formalmente è quello di reprimere le attività religiosi illegali e di prevenire eventuali focolai di Covid-19, ma che si tratti di generici pretesti lo dimostra il fatto che il provvedimento riguarda anche quanti distribuiscano materiale religioso all'esterno e luoghi di culto, quanti promuovono donazioni non autorizzate in beni o denaro e quanti distribuiscano stampe o pubblicazioni. Le spiate, anche a carattere anonimo, possono essere trasmesse via telefono per mail o tramite lettera e i compensi possono raggiungere anche 1000 yuan, pari a circa 150 dollari. Tale metodo, che è già in uso in altre regioni della Cina, come nel distretto di Bo Shan e nello Shandong, ha già provocato diverse arresti ad opera della polizia, intervenuta anche senza mandato e facendo ricorso alla violenza. Intanto, dall'altra parte del mondo, in un altro paese, il Peru, il regime comunista ha impresso con forza un'inquietante svolta autoritaria e anche qui, come già in Spagna, pure retta da un esecutivo di estrema sinistra, la Conferenza Episcopale Nazionale ha diffuso un documento ufficiale dal titolo «Con passi decisi rendiamo grande il nostro Peru», in cui esprime viva preoccupazione in merito. Benché l'esecutivo guidato dal presidente Pedro Castiglio abbia ottenuto nei giorni scorsi la fiducia al Parlamento, i vescovi hanno condannato il clima di esasperazione imposto dal regime, auspicando un ritorno alla democrazia, alla Costituzione e alla legalità. Notiamo con profonda preoccupazione, scrivono, che l'estrema polarizzazione politica crea incertezza nel Paese e ha ripercussioni in tutti i settori della società. Allo stesso tempo colpisce sempre più i valori della convivenza umana nel rispetto reciproco, nella tolleranza e nella responsabilità sociale. E ancora più avanti, orientiamo la democrazia verso la libertà, evitando ogni autoritarismo. Secondo i prelati, la stessa vita di fede verrebbe oggi messa in discussione. «Vogliamo continuare ad esercitare il nostro diritto ad esprimere la nostra fede in modo libero e responsabile», affermano. La conferenza episcopale peruviana accusa il presidente Castiglio anche di avere abbandonato, sole nella loro miseria o nella discriminazione, migliaia di persone incapaci di reagire autonomamente mentre le crescenti disuguaglianze sociali starebbero provocando dolore e rabbia tra la povera gente. Detto questo, sono opportune tuttavia alcune precisazioni per poter avere un quadro completo della situazione peruviana. Il presidente è certamente uno dei leader del partito Peru Libero che professa come ideologia di riferimento il marxismo-leninismo, l'antimperialismo, l'antiamericanismo e il populismo di estrema sinistra. Il premier voluto da Castiglio a capo del governo, Guido Bellido, è peraltro su posizioni contigue a Sendero Luminoso. Il movimento terroristico responsabile della morte di migliaia di cittadini e in molti posti chiave dell'esecutivo figurano politici noti per le loro posizioni estremistiche. Va però anche aggiunto, come il presidente Castiglio, che incredibilmente si dichiara ad un tempo marxista e cattolico, se si è detto contrario l'aborto e la sua legalizzazione, l'eutanasia, al matrimonio tra persone dello stesso sesso e al consumo di marijuana, esprimendo così una forte contrapposizione tra ideali e ideologia, contrapposizione resa critica dalle nomine politiche compiute, dal partito in cui milita e di cui è esponente di spicco, certamente lontano le luci dal catechismo della Chiesa Cattolica. Si tratta insomma di una situazione da monitorare, i vescovi peruviani la ritengono già ora compromessa, almeno sul fronte sociale. Qualora però le forze estremistiche interne all'esecutivo dovessero prendere il sopravvento, le criticità potrebbero facilmente coinvolgere anche l'ambito bioetico e la situazione precipiterebbe in un tunnel di difficile soluzione. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org e il sito www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org